Se fossi un'impresa lo metterei subito in produzione, così Rossella Palomba del CNR di Roma, mentre racconta del seggiolino fatto apposta per non dimenticare i bambini in auto, messo a punto dai ragazzi dell'ISIS Fermi di Bibbiena, che si è aggiudicato il primo posto alla quarta edizione dell'Inv Factor Anche Tu, Genio. Tra i 42 progetti presentati dalle decine di scuole che hanno partecipato in tutta Italia, quello della quarta professionale dell'Istituto Bibbienese è arrivato primo ed è anche l'unico a rappresentare la Toscana. Il progetto è stato premiato non solo per il suo funzionamento, ma anche per l'attenzione ai fatti di cronaca che hanno raccontato troppe volte di questi gravi episodi costati la vita ai piccoli dimenticati in auto dai genitori. Il seggiolino, che si chiama Ricordati di me, può funzionare in autonomia oppure integrato all'impianto dell'auto. Si attiva quando il motore viene spento e la portiera del guidatore viene aperta. Prima fa abbassare i finestrini, visto che molti bimbi sono morti per asfissia, poi fa lampeggiare le quattro frecce e suonare il clacson. Se questo non basta per carpire l'attenzione del genitore, i ragazzi hanno ideato un sistema di SMS a ripetizione ad un numero di telefono del tipo mamma, sono in auto, aiuto. Una tecnologia semplice, afferma la dottoressa Palomba, ma in grado di salvare tantissime vite.